eccoci qua ragazzi la partita è finita da 10 minuti circa vi dico subito il risultato finale ed è di Parma 1 Inter 2 sì siamo riusciti a vincere però però prima di entrare nel merito della partita volevo fare delle precisazioni a inizio partita prima che la partita iniziasse ho girato su Tele Lombardia perché come sempre guardo Tele Lombardia prima di ogni partita non solo dell'Inter ma di tutte le partite e il caro direttore di Tele Lombardia Fabio Ravezzani non mi interessa io il nome lo faccio magari come battuta come per cercare di tranquillizzare gli animi va bene disse scherzosamente cari amici interisti visto che aveva degli interisti in studio state tranquilli tanto vincerete tranquillamente ecco caro direttore Ravezzani adesso te la faccio io la domanda sappiamo che nelle tue trasmissioni come dire l'obiettività non è che c'è tanto quindi io ti chiedo cortesemente di non fare nessun pronostico quando gioca l'Inter delle altre squadre a me non me ne frega puoi dire tutto quello che vuoi ma dell'Inter non devi dire niente perché adesso ti è andata di culo che l'Inter è riuscita a vincere giocando male perché abbiamo fatto schifo abbiamo preso anche lì un gol vabbè lasciamo stare però abbiamo fatto schifo quindi la vittoria non è assolutamente meritata anzi il Parma meritava perché il Parma ha giocato molto bene e se vinceva non c'era niente da dire anzi a loro la vittoria per 1 a 0 sarebbe stata molto stretta questo fa vedere la mia obiettività non la tua caro Ravezzani però vabbè nel finale siamo riusciti a ribaltarla e a vincerla però cara Inter così non va e anche Antonio Conte cioè io non voglio attaccarti però anche per te ho qualcosa da dire cioè non puoi aspettare così tanto tempo per fare questi benedetti cambi cioè hai aspettato 20 minuti della ripresa quando il Parma in vantaggio dopo che aveva fatto un bel primo tempo dove aveva anche creato per fare il secondo gol subito durante l'intervallo il Parma fa già un cambio e tu aspetti 20 minuti e poi vabbè me ne fai 3 di fila vabbè alla fine possiamo dire che i cambi sono stati azzeccati anche tra virgolette determinanti perché ti hanno fatto riemergere dalla partita e quindi a portare a casa 3 punti però non puoi non puoi aspettare 20 minuti per fare un cambio lascia stare che ne hai fatti 3 ma te l'ho già detto anche altre volte non puoi aspettare così tanto tempo soprattutto quando sei in difficoltà e quando stai facendo una brutta partita a me spiace parlare così spiace parlare così però non si può andare avanti così non si può e quindi che dire sono contento per il risultato ma non sono contento per la prestazione perché abbiamo fatto schifo abbiamo fatto schifo cioè ognuno pensava per sé eravamo sempre in ritardo sia nelle azioni offensive che in quelle difensive cioè l'unico l'unico che un pochino ha fatto qualcosa di decente è stato barella è stato barella quindi è l'unico che si può salvare l'unico l'unico ericsson deludente lukaku non pervenuto lautaro martinez lasciamo stare quello sappiamo già dove ha la testa ecco eeeh vabbè gagliardini mi viene da dire che errori plateali non li ha fatti quindi però non si salva la difesa non ne parliamo non ne parliamo che andreva vabbè quello che è stato meno male che quando il mister si è degnato di fare questi cambi meno male che Moses ha avuto una bella spinta Bastoni anche lui Sanchez ha giocato molto bene da quando è entrato cioè ha ravvivato quel poco di buon gioco però non si può non si può giocare così cioè non si può cioè la prova di la prestazione d'orgoglio che dicevo dopo Inter Sassuolo stasera non c'è stata non c'è stata e adesso mercoledì che giochiamo a San Siro contro il Brescia contro il Brescia ultimo in classifica che oggi vinceva 2-0 e si è fatta recuperare due gol da Genoa cioè verrà qua a Milano incazzati quindi mi raccomando contro il Brescia dobbiamo fare una buona gara una buona gara mi raccomando mi raccomando giocheremo alle 19.30 quindi lo so farà caldo perché anche anche stasera faceva caldo però mi raccomando cioè io lo dico sempre dobbiamo usare testa cuore e gambe testa cuore e gambe cioè non alcune partite sì e altre no sempre tutte le partite tutte le partite eh mi raccomando mi raccomando so che si è iscritto una nuova persona al canale lo saluto e lo ringrazio mi raccomando continuate ad iscrivervi mi raccomando perché entro fino agosto come ho detto in precedenza dobbiamo arrivare a 50 iscritti quindi altri 5 poi piano piano cercheremo di andare su però fino per il 31 di agosto arrivare a 50 iscritti dai ne mancano 5 quindi ce la possiamo fare mi raccomando commentate questo video e non solo anche i video precedenti e quelli futuri mettete mi piace condividete commentate e che dire ci risentire ci risentiamo molto presto mercoledì dopo il dopo la partita tra Inter e Brescia e niente buona notte a tutti e sempre e solo forza Inter nel bene e nel male ciao ciao